Oh, e vai, sono arrivati un po' di hater, finalmente, eravate troppi. Cosa si prova ad essere un pelatone che deve parlare degli altri per riprendere un po' di hype? Ma tu pensi veramente che a me Moreno mi porta dell'hype? Gli avrò fatto vendere due cd su iTunes o quelle storie, gli ho fatto un grande favore. Io non devo prendere hype da nessuna parte, non credi? No? Guarda la top 50 di Spotify oggi. Ok. Diana è a Roma, io ora sono a Berlino, mi manca. Un album vero e proprio, arriverà anche quello. Ciao Gian Gianni! Ormai dici sempre le stesse cose e fai schifo. Eh blo, sentiti qualcun altro. A me non mi pare che i pezzi parlino tutti delle stesse cose, ma se per te è così, trova di qualcuno che parla di cose più interessanti. Sono gusti. Ciao Dano, ti amo. Io sarei un artista? Boh, tu che dici? Un artista è uno che crea la propria arte. Che a te ti piaccia o no? Quindi sì, sì, sei un artista. Al cento per cento. E vediamo un po'. Ciao. Ciao. Ciao.